Dobbiamo lavorare, come si dice, step by step, cioè man mano che la situazione si evolve e se si evolve in senso non positivo dobbiamo mettere in atto delle azioni sempre più stringenti per cercare di limitare il più possibile la diffusione dell'economia. Sappiamo che in altre regioni, anche nella regione a noi più vicina, a Piemonte, hanno già messo in atto delle misure più forti, più stringenti delle nostre ma la situazione è ancora diversa dalla nostra, nel senso che noi, come è stato detto, abbiamo sette casi positivi non abbiamo nessun caso positivo in questo momento ricoverato e questo ci consente quindi di affrontare il primo passo e è quello che abbiamo confrontato stamattina di limitare gli accessi per le prestazioni ambulatoriali non urgenti solo negli ospedali Boregar e Paris, mentre lasciamo ancora aperte le prestazioni ambulatoriali anche urgenti sul territorio perché questa manovra è una manovra che ha l'obiettivo di limitare il sovraffolamento degli ambienti che, perché il sovraffolamento, come già stato detto prima dal Presidente, è un amplificatore della possibilità dell'inclusione del virus. Grazie